La storia dell'enigma inizia negli anni 20, in un periodo di grandi cambiamenti tecnologici e scientifici. In questa epoca dinamica, Arthur Scherbius, un brillante ingegnere e inventore tedesco, concepì l'idea di una macchina in grado di cifrare e decifrare messaggi con un livello di sicurezza senza precedenti. Scherbius era affascinato dal potenziale della crittografia e dal bisogno crescente di proteggere le comunicazioni in un mondo sempre più connesso. Arthur Scherbius nacque a Francoforte sul meno nel 1878. Dopo aver studiato Ingegneria elettrica all'Università di Monaco e al Politecnico di Hannover, Scherbius lavorò nel settore dell'elettricità e della tecnologia dei motori. La sua mente innovativa lo portò a brevettare diverse invenzioni, ma fu il suo interesse per la crittografia che lo spinse a creare qualcosa di straordinario. Nel 1918, Scherbius depositò il brevetto per una macchina crittografica che chiamò Enigma. L'idea era semplice ma rivoluzionaria, utilizzare un sistema di rotori per trasformare ogni lettera di un messaggio in un'altra lettera secondo un modello complesso e variabile. Immaginate di avere una macchina da scrivere magica che ogni volta che si preme un tasto cambia la lettera inserita in qualcosa di completamente diverso, rendendo il messaggio incomprensibile per chiunque non possieda la chiave giusta. Inizialmente, l'Enigma fu progettata per uso commerciale. Scherbius sperava che banche, aziende e altre organizzazioni l'avrebbero utilizzata per proteggere le loro comunicazioni riservate. Tuttavia, la macchina non ebbe un immediato successo commerciale. Fu solo quando l'esercito tedesco riconobbe il potenziale dell'Enigma che la storia della macchina prese una svolta decisiva. Negli anni 20 e 30, l'esercito e la marina tedesca cominciarono a perfezionare la macchina Enigma, rendendola più complessa e sicura. A differenza della versione commerciale, la versione militare dell'Enigma includeva ulteriori rotori e riflettori che aumentavano esponenzialmente il numero di possibili combinazioni. Questo rendeva praticamente impossibile per chiunque senza la macchina e la configurazione corretta decifrare i messaggi. L'Enigma era composta da una tastiera, rotori intercambiabili, un riflettore e un pannello di collegamento, plug board. Ogni rotore aveva un anello di contatti elettrici su ciascun lato e ogni volta che una lettera veniva digitata, il segnale elettrico passava attraverso i rotori, venendo cifrato più volte. I rotori giravano ogni volta che un tasto veniva premuto, cambiando continuamente il percorso del segnale elettrico e creando una nuova configurazione per ogni lettera. Il riflettore rimandava il segnale attraverso i rotori in direzione opposta, aggiungendo un ulteriore livello di cifratura. Infine, il plug board permetteva di scambiare coppie di lettere prima che il segnale entrasse nei rotori, aggiungendo un ulteriore strato di complessità. La vera forza dell'enigma risiedeva nella sua capacità di creare un numero astronomico di configurazioni. Con tre rotori selezionabili da un set di cinque, ciascuno con 26 posizioni iniziali e un plug board che poteva collegare 10 coppie di lettere, il numero totale di configurazioni possibili era superiore a 150 milioni di miliardi. Questo significava che, senza conoscere la configurazione precisa utilizzata in un dato momento, decifrare un messaggio era praticamente impossibile. L'enigma, quindi, rappresentava una combinazione straordinaria di semplicità meccanica e complessità matematica. La sua invenzione non solo rivoluzionò il campo della crittografia, ma pose anche le basi per lo sviluppo delle future tecnologie di sicurezza delle comunicazioni. La macchina Enigma, all'apparenza simile a una comune macchina da scrivere, nascondeva un intricato meccanismo di crittografia che rendeva ogni messaggio cifrato praticamente indecifrabile senza la corretta configurazione. Per capire meglio come funzionava questa meraviglia dell'ingegneria, immergiamoci nei dettagli dei suoi componenti e del suo funzionamento. La macchina Enigma era composta da diversi componenti chiave, una tastiera, un insieme di rotori, un riflettore e un pannello di collegamento, Plugboard. Questi elementi lavoravano insieme per trasformare ogni lettera digitata in un codice complesso e mutevole. Simile a quella di una macchina da scrivere, la tastiera dell'Enigma permetteva all'operatore di inserire il messaggio originale. Ogni volta che si premeva un tasto, il circuito elettrico all'interno della macchina veniva attivato. Il cuore della macchina Enigma erano i suoi rotori, cilindri rotanti con contatti elettrici su entrambi i lati. Ogni rotore rappresentava una sorta di cifrario monoalfabetico, ma con una particolarità. Ruotava ogni volta che un tasto veniva premuto, cambiando la configurazione del cifrario. La versione militare dell'Enigma utilizzava generalmente tre rotori scelti da un set T5 o più in alcuni modelli, con ciascun rotore posizionabile in una delle 26 posizioni, corrispondenti alle lettere dell'alfabeto. Dopo aver attraversato i rotori, il segnale elettrico raggiungeva il riflettore, che rimandava il segnale attraverso i rotori in direzione opposta. Questo doppio passaggio attraverso i rotori aumentava ulteriormente la complessità della cifratura, poiché ogni lettera veniva cifrata due volte prima di essere restituita. Un altro strato di sicurezza era fornito dal Plugboard, che permetteva di scambiare coppie di lettere prima che il segnale entrasse nei rotori. Questo dispositivo aggiuntivo aumentava il numero di configurazioni possibili, rendendo la decifrazione ancora più difficile. Il Plugboard poteva collegare fino a dieci coppie di lettere, creando una vasta gamma di possibili combinazioni. Ecco come funzionava il processo di cifratura dell'Enigma in pratica. L'operatore inseriva il messaggio originale, lettera per lettera, usando la tastiera. Ogni volta che una lettera veniva digitata, il segnale elettrico passava attraverso il Plugboard, dove le lettere potevano essere scambiate secondo la configurazione preimpostata. Dopo il Plugboard, il segnale attraversava i rotori, che trasformavano la lettera originale in una nuova lettera. Poiché i rotori ruotavano ad ogni pressione di tasto, la configurazione del cifrario cambiava costantemente, rendendo ogni lettera cifrata unica. Il segnale raggiungeva quindi il riflettore, che lo rimandava indietro attraverso i rotori, aggiungendo un ulteriore livello di cifratura. Infine, il segnale cifrato passava nuovamente attraverso il Plugboard e veniva illuminato su un pannello luminoso, indicando la lettera cifrata. L'operatore trascriveva questa lettera, ripetendo il processo per ogni lettera del messaggio originale. La sicurezza dell'Enigma derivava dalla sua capacità di generare un numero incredibilmente alto di configurazioni possibili. Consideriamo la versione standard, con tre rotori e un Plugboard. Con cinque rotori disponibili, c'erano sessanta combinazioni possibili solo per la scelta dei tre rotori, 5x4x3. Ogni rotore poteva essere posizionato in una delle 26 posizioni, il che moltiplicava ulteriormente il numero di configurazioni. Infine, il Plugboard aggiungeva una dimensione di complessità quasi impossibile da gestire senza la configurazione esatta. Per i tedeschi, l'Enigma rappresentava un sistema di comunicazione quasi inviolabile. La convinzione nella sicurezza della macchina era così forte che si basavano pesantemente su di essa per trasmettere informazioni militari critiche. Tuttavia, come vedremo nei capitoli successivi, questa fiducia cieca fu in definitiva la loro rovina, poiché i critografi alleati, con determinazione e ingegno, riuscirono a decifrare l'Enigma, alterando il corso della guerra. L'Enigma, quindi, non era solo una macchina di critografia, ma un simbolo di complessità matematica e ingegneristica. La sua invenzione e il suo funzionamento rappresentano una delle più affascinanti storie di tecnologia del XX secolo. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la macchina Enigma divenne uno strumento essenziale per le forze armate tedesche. La sua capacità di cifrare messaggi con un livello di complessità straordinario permise ai tedeschi di trasmettere ordini e informazioni cruciali con la convinzione che sarebbero rimasti segreti. Esploriamo come l'Enigma venne utilizzata nei vari rami dell'esercito tedesco e perché divenne una componente fondamentale della loro strategia bellica. All'inizio degli anni 30, l'esercito tedesco, riconoscendo l'importanza della sicurezza nelle comunicazioni, adottò la macchina Enigma come standard per cifrare i propri messaggi. Con l'aumento delle tensioni in Europa e l'avvicinarsi della guerra, anche la marina e l'aeronautica tedesca, iniziarono a utilizzare versioni modificate dell'Enigma. Ogni ramo delle forze armate adattò la macchina alle proprie esigenze, aumentando ulteriormente la complessità delle configurazioni e delle operazioni. Le versioni militari dell'Enigma erano più sofisticate rispetto ai modelli commerciali originali. In particolare, la marina tedesca, nota come Kriegs Marine, utilizzava una versione con un numero maggiore di rotori e una configurazione del plugboard più complessa. Queste macchine erano in grado di generare un numero ancora maggiore di combinazioni, rendendo la decrittazione dei messaggi un compito estremamente arduo per chiunque non avesse la configurazione corretta. La Enigma fu utilizzata per trasmettere una vasta gamma di informazioni, dagli ordini operativi ai rapporti di intelligence. Ogni giorno, le forze armate tedesche impostavano una nuova configurazione per le loro macchine Enigma, seguendo un libro di codici che specificava la disposizione dei rotori, le impostazioni del plugboard e altre variabili. Questo significava che anche se un messaggio fosse stato intercettato senza la configurazione giornaliera corretta, sarebbe rimasto indecifrabile. Gli operatori addetti all'uso della Enigma erano addestrati a mantenere una rigida disciplina delle comunicazioni. Ogni unità aveva procedure specifiche per l'invio e la ricezione dei messaggi cifrati, riducendo al minimo il rischio di errori che potessero compromettere la sicurezza dei messaggi. Gli operatori seguivano scrupolosamente le istruzioni per garantire che ogni messaggio cifrato fosse trasmesso correttamente e potesse essere decifrato solo dalla destinazione prevista. La fiducia nella sicurezza dell'Enigma era totale. I tedeschi ritenevano che la macchina fosse inviolabile e questa convinzione influenzava pesantemente la loro strategia militare. Utilizzavano la Enigma per coordinare operazioni complesse, come gli attacchi dei sottomarini U-Boot contro i convogli alleati nell'Atlantico e le campagne militari sui vari fronti di guerra. Ad esempio, la Kriegsmarine usava la Enigma per trasmettere ordini ai suoi U-Boot, permettendo loro di organizzare imboscate contro i convogli alleati con precisione chirurgica. La capacità di comunicare in modo sicuro e segreto dava ai comandanti tedeschi un vantaggio significativo, permettendo loro di reagire rapidamente alle situazioni in evoluzione e di sfruttare le debolezze degli avversari. Nonostante la complessità e la sofisticazione della macchina Enigma, esistevano delle debolezze intrinseche. Un punto critico era la ripetitività dei messaggi, specialmente i cosiddetti Kriegs, ovvero frammenti di testo noti o prevedibili all'interno dei messaggi cifrati. Ad esempio, i tedeschi spesso iniziavano i loro messaggi con frasi standard o informazioni di routine, il che poteva fornire agli analisti alleati un punto di partenza per tentare di decifrare il resto del messaggio. Un'altra debolezza era rappresentata dalla disciplina non sempre rigorosa degli operatori tedeschi. Gli errori umani, come la riutilizzazione di chiavi o la trasmissione di messaggi simili con configurazioni leggermente diverse, potevano fornire indizi preziosi agli alleati. La Enigma rappresentò uno strumento fondamentale per la macchina bellica tedesca. La sua capacità di proteggere le comunicazioni diede ai tedeschi un vantaggio strategico significativo, consentendo loro di condurre operazioni coordinate e segrete. Tuttavia, come vedremo nei capitoli successivi, la fiducia cieca nella sicurezza della Enigma sarebbe stata sfruttata dagli alleati, portando a uno dei più grandi successi dell'intelligence durante la Seconda Guerra Mondiale. Mentre i tedeschi si affidavano alla sicurezza della macchina Enigma, un gruppo di brillanti menti a Bletchley Park, nel Regno Unito, stava lavorando instancabilmente per decifrare i messaggi cifrati tedeschi. Questa impresa, che all'inizio sembrava impossibile, divenne una delle più grandi vittorie dell'intelligence alleata durante la Seconda Guerra Mondiale. Bletchley Park, situato a circa 80 chilometri a nord-ovest di Londra, fu acquistato dal governo britannico nel 1938 e trasformato in un centro di criptoanalisi. Qui si radunò una squadra eterogenea di matematici, linguisti, scienziati e persino campioni di scacchi e cruciverba, tutti uniti dall'obiettivo comune di svelare i segreti dell'Enigma. Tra questi, una figura centrale fu Alan Turing, il matematico che sarebbe diventato una leggenda per i suoi contributi fondamentali alla criptografia e all'informatica. Prima dello scoppio della guerra, un gruppo di matematici polacchi aveva già compiuto progressi significativi nella decifrazione dell'Enigma. Grazie al lavoro di Marian Rejewski, Dzerz Ruzicki e Henrik Zygalski, i polacchi riuscirono a costruire una replica funzionante della macchina Enigma e a sviluppare metodi per decifrare i messaggi. Nel 1939, con l'invasione della Polonia imminente, i polacchi condivisero le loro scoperte con gli alleati britannici e francesi, fornendo una base vitale per il lavoro futuro a Bletchley Park. Alan Turing arrivò a Bletchley Park nel 1939 e si immerse subito nel compito di decifrare l'Enigma. Comprendendo che il metodo manuale di decifrazione non era sufficiente, Turing sviluppò una macchina elettromeccanica chiamata bomba. La bomba era progettata per automatizzare e accelerare il processo di decifrazione, cercando rapidamente tra milioni di possibili configurazioni per trovare quella corretta. La bomba di Turing funzionava sfruttando le debolezze dell'Enigma, come i cribs, frammenti di testo noto o prevedibile. Ad esempio, se si sospettava che un messaggio contenesse una frase standard come Heil Hitler, la bomba poteva testare diverse configurazioni fino a trovare quella che restituiva il testo noto. Questo approccio riduceva drasticamente il tempo necessario per decifrare i messaggi. Una delle sfide più difficili fu decifrare i messaggi della Kriegsmarine, la marina tedesca che utilizzava versioni dell'Enigma più complesse. Gli U-boot tedeschi rappresentavano una minaccia significativa per i convogli alleati nell'Atlantico e decifrare le loro comunicazioni era cruciale per evitare le perdite devastanti. Nel 1941 un'importante svolta arrivò con la cattura di un U-boot tedesco e il recupero del suo libro di codici. Questo fornì agli analisti di Bletchley Park informazioni vitali per decifrare i messaggi della Kriegsmarine, consentendo agli alleati di comprendere le strategie degli U-boot e organizzare contromisure efficaci. L'operazione di decifrazione dei messaggi dei sottomarini tedeschi, ebbe un impatto significativo sulla battaglia dell'Atlantico, salvando numerose vite e risorse. Il successo di Bletchley Park non fu solo frutto del genio individuale, ma anche di una stretta collaborazione internazionale. I contributi dei matematici polacchi, le risorse fornite dagli Stati Uniti e lo scambio costante di informazioni tra gli alleati furono cruciali per il progresso della criptografia. Uno degli aspetti più notevoli del lavoro a Bletchley Park fu il segreto assoluto mantenuto intorno alle operazioni. Migliaia di persone lavoravano incessantemente in condizioni spesso difficili, senza rivelare nulla del loro lavoro nemmeno ai familiari. Questo livello di segretezza fu essenziale per garantire che i tedeschi non sospettassero che i loro codici erano stati violati. La capacità di decifrare i messaggi Enigma fornì agli alleati un vantaggio strategico inestimabile. Informazioni cruciali sui movimenti delle truppe, le operazioni aeree e navali e altre attività militari tedesche permisero agli alleati di anticipare e contrastare le mosse nemiche con precisione. Ad esempio, durante la campagna del Nord Africa, le informazioni ottenute da Bletchley Park furono decisive per il successo delle operazioni alleate contro le forze dell'asse. Inoltre, la capacità di prevedere gli attacchi degli U-Boot nel Mediterraneo e nell'Atlantico contribuì a ridurre le perdite e a mantenere le linee di rifornimento vitali. Il lavoro svolto a Bletchley Park non solo influenzò direttamente l'esito della Seconda Guerra Mondiale, ma pose anche le basi per lo sviluppo della moderna informatica e criptografia. Alan Turing, in particolare, è oggi riconosciuto come uno dei padri dell'informatica per il suo lavoro pionieristico nel campo delle macchine computazionali. La decifrazione della macchina Enigma non solo influenzò profondamente l'esito della Seconda Guerra Mondiale, ma lasciò anche un'impronta duratura su molti aspetti della tecnologia, della scienza e della società. In questo capitolo esploreremo l'eredità dell'Enigma e come le sue innovazioni continuano a influenzare il mondo moderno. La sfida di decifrare l'Enigma portò a sviluppi significativi nel campo della criptografia. Gli sforzi per rompere il codice dell'Enigma spinsero i limiti della matematica applicata e delle tecniche criptografiche, gettando le basi per la criptografia moderna. Le tecniche sviluppate a Bletchley Park influenzarono la creazione di algoritmi criptografici più avanzati, che sono alla base delle comunicazioni sicure oggi. La criptografia è diventata una componente essenziale della sicurezza informatica. Proteggendo dati sensibili e garantendo la privacy delle comunicazioni in un mondo sempre più digitale. Dalle transazioni bancarie online alle comunicazioni private sui social media, i principi della criptografia sviluppati durante la Seconda Guerra Mondiale continuano a garantire la sicurezza delle informazioni. Uno degli aspetti più significativi dell'eredità dell'Enigma è il ruolo che Alan Turing ebbe nello sviluppo dell'informatica. Il lavoro di Turing a Bletchley Park, in particolare la progettazione della macchina bomba, dimostrò il potenziale delle macchine elettromeccaniche per risolvere problemi complessi. Questo lavoro fu fondamentale per la nascita dei computer moderni. Turing propose il concetto di una macchina universale, un'idea che sarebbe diventata la base teorica dei computer programmabili. Dopo la guerra, Turing continuò a lavorare nel campo dell'informatica, sviluppando alcuni dei primi computer elettronici e contribuendo allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Oggi il premio Turing, considerato il Nobel dell'informatica, onora la sua memoria e il suo contributo alla scienza. L'eredità dell'Enigma va oltre la scienza e la tecnologia. Le storie di Bletchley Park e degli uomini e delle donne che lavorarono per decifrare i codici tedeschi, sono diventate simboli di ingegno, determinazione e collaborazione. Il loro lavoro segreto, mantenuto tale per decenni, è ora celebrato come una delle più grandi conquiste dell'intelligence militare. Film, libri e documentari hanno raccontato le storie di questi eroi sconosciuti, portando alla luce i loro contributi e rendendo omaggio al loro sacrificio. La storia dell'Enigma è diventata una fonte di ispirazione, dimostrando come la dedizione e l'ingegno umano possano superare sfide apparentemente insormontabili. La decifrazione dell'Enigma dimostrò l'importanza cruciale dell'intelligence nelle operazioni militari e nella sicurezza nazionale. Questo portò a una maggiore enfasi sulla crittografia e sulla sicurezza delle comunicazioni negli anni successivi alla guerra. Le lezioni apprese durante la decifrazione dell'Enigma influenzarono la creazione di agenzie di intelligence moderne e la loro continua evoluzione. Oggi la crittografia è un elemento chiave nella protezione delle informazioni governative, militari e aziendali. Gli stessi principi che resero possibile la decifrazione dell'Enigma sono applicati per proteggere le comunicazioni sensibili in tutto il mondo, garantendo che le informazioni critiche rimangano sicure contro le minacce. La storia dell'Enigma e di Bletchley Park è anche un potente strumento educativo. Università e istituzioni educative utilizzano questa storia per insegnare principi di matematica, criptografia, informatica e storia. I musei e i centri di ricerca dedicati all'Enigma e a Bletchley Park attirano visitatori da tutto il mondo, educando le nuove generazioni sull'importanza della criptografia e dell'intelligence. Bletchley Park in particolare è diventato un sito storico di grande importanza, dove i visitatori possono esplorare le stanze e i dispositivi utilizzati dai criptografi durante la guerra. Questi luoghi offrono un'esperienza immersiva, permettendo ai visitatori di comprendere meglio le sfide affrontate e superate da queste brillanti menti. In conclusione, l'eredità dell'Enigma è vasta e multidimensionale. La macchina Enigma e la sua decifrazione non solo cambiarono il corso della Seconda Guerra Mondiale, ma lasciarono un impatto duraturo su numerosi campi. La storia di questa macchina e delle persone che riuscirono a decifrarla continua a ispirare innovazione, ingegno e resilienza. L'Enigma è un simbolo di come l'intelligenza umana e la cooperazione possano superare le sfide più difficili, trasformando i momenti di crisi in opportunità di progresso. La sua eredità vive nelle tecnologie che utilizziamo quotidianamente, nelle storie che ci ispirano e nei principi che guidano la sicurezza delle nostre comunicazioni.